Allora, buongiorno a tutti, benvenuti a questa lezione di visualizzazione di informazione quantitativa. L'obiettivo di oggi è quello di vedere assieme come avviene la percezione umana sostanzialmente relativamente a visualizzazione di grafici. Buona parte delle cose che vedremo valgono anche per altri tipi di visualizzazione, però noi ci concentriamo sostanzialmente sulla parte di percezione di quelli che sono gli aspetti grafici di diagrammi. Allora, innanzitutto vi richiamo una cosa che avevamo visto la settimana scorsa, scusate, la lezione scorsa, su quella che è la visualization pipeline, ovvero come avviene la visualizzazione all'interno di un percorso che parte dai dati, li rappresenta in qualche modo, codificandoli, andando a sfruttare quelli che sono gli aspetti di percezione visuale, ovvero gli oggetti visivi, le forme e le loro caratteristiche, dimensioni, colori, posizioni, eccetera. Vedremo poi nel dettaglio quali sono. Questo permette di fare la parte successiva che è un ragionamento quantitativo che permette di andare a confrontare gli elementi, dare un significato e poi sulla base di questo ragionamento quantitativo è possibile andare a fare la vera e propria comprensione del messaggio che viene trasmesso tramite il nostro diagramma. La comprensione di questo porta a conoscenza che alla fine può essere utilizzata per andare a prendere le decisioni. Vediamo in un esempio molto semplice come funziona questo meccanismo di visualizzazione, quindi quali strumenti e meccanismi possiamo andare a sfruttare per visualizzare in maniera corretta i dati. Il primo passo, l'abbiamo detto, è la parte di percezione, quindi andare a giocare con gli oggetti visivi e i loro attributi per andare a codificare dei dati. Come codifichiamo i dati? Allora, innanzitutto dobbiamo andare a scegliere un oggetto che usiamo per andare a codificare. Ad esempio, posso utilizzare un segmento, un punto, una figura piana, una figura tridimensionale, un simbolo, un cerchio, insomma, gli oggetti che posso andare a scegliere sono abbastanza vari. E poi devo andare a codificare un numero con un attributo di questo oggetto, per cui se abbiamo un punto potrebbe essere la sua posizione, se abbiamo un segmento potrebbe essere la lunghezza, se abbiamo una circonferenza potrebbe essere il perimetro o l'area. Vediamo un esempio molto molto semplice di dati e di come possiamo andare a codificare. Partiamo da questi dati. Allora, immaginiamo di avere delle votazioni in cui ci sono quattro candidati, Sergio, Alberto, Giorgio e Walter, con un certo numero di voti, 197.000, 140.000, 53.000 e 2.007, che danno 50%, 35%, 13% e 0,7%. Immaginiamo di voler andare a codificare queste informazioni. Come facciamo? Dovremo innanzitutto andare a scegliere un oggetto, un tipo di oggetto e un suo attributo. Diciamo che quelli più semplici potrebbero essere un oggetto, che è una linea, un segmento, e l'attributo di questo segmento, che è la lunghezza. Questo è il passaggio fondamentale. Una delle scelte che dobbiamo fare ogni volta che andiamo a visualizzare qualcosa è scegliere l'oggetto e l'attributo. E questo ci determina una buona parte di come verrà visualizzato e quindi il tipo di grafico che andremo a visualizzare. Vedete che in questa codifica io ho buttato a caso dei segmenti. L'unica cosa che ho curato è il fatto che la lunghezza di un segmento sia proporzionale, per qualche fattore, al numero che voglio rappresentare. Quindi questo segmento lungo qui sarà proporzionale a 197.800. L'altro segmento, questo qua, in secondo in lunghezza, sarà proporzionale a 140.545. Quindi, meccanismo molto 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 semplice. Non sto registrando con zoom, sto registrando in locale. A questo punto, il passaggio successivo è quello che abbiamo chiamato di ragionamento visivo. Normalmente sono tre i compiti che noi facciamo nell'andare a comprendere una visualizzazione, o meglio, nell'andare ad accompagnare chi leggerà la visualizzazione. Discriminazione, confronto e valutazione della dimensione, della quantità. Discrimination sta nel andare a identificare un elemento e separarlo dagli altri. Quindi, identificare quale oggetto visuale si riferisce a un certo dato. Primo passaggio. Senza questo, ovviamente, noi non riusciamo a capire i nostri dati. Confronto. Il confronto, sostanzialmente, ci permette, presi due oggetti, che rappresentano due dati, a partire nel nostro insieme, di dati che vogliamo andare a visualizzare, metterli in ordine, quindi capire chi è più grande e chi è più piccolo. Attenzione, non mi interessa di quanto è più grande o più piccolo. Il confronto semplicemente definisce un ordine. Il quanto uno sia più grande o più piccolo dell'altro è il terzo passo, ovvero quella che qui è chiamata Magnitude Assessment, quindi la valutazione delle dimensioni. E quindi qui a me interessa andare a capire se uno è il doppio, il tripo, dieci volte rispetto all'altro. E quindi questi tre compiti, operazioni che vengono fatte nella percezione visiva, sono tre azioni, ovviamente una che abilita quella successiva, che dobbiamo andare a rendere più facile tramite la nostra definizione del grafico. Quindi, se il primo passo è la discriminazione, ovviamente i segmenti e le etichette messi tutti così, uno addosso all'altro, dove qui non riesco a capire chi si riferisce a che cosa, sono difficili da discriminare. Per cui è molto meglio, ad esempio, andare a separare, mettere le etichette, o allontanare e distanziare meglio i nostri segmenti. Il secondo passo, quindi discrimination, il secondo passo è quello di andare a fare il confronto. Ovviamente, se io vedo i segmenti, questi sono abbastanza diversi l'uno dall'altro, però, se sono, se hanno delle dimensioni simili, è possibile che sia più difficile andare a capire chi è più lungo e chi è più corto, quale rappresenta un numero più grande e più piccolo. Per questo motivo, normalmente, se io devo andare a confrontare delle lunghezze di segmenti, questo confronto è agevolato se io vado a disporre i nostri segmenti, tutti a partire da una stessa linea di riferimento. A questo punto, se un estremo è allineato, a me basta confrontare l'altro estremo, e quindi è facile andare a capire chi è più grande e chi è più piccolo. E quindi, il secondo passo nel nostro ragionamento visuale, il confronto, è fattibile. Il terzo passo riguarda andare a capire quanto uno è più grande dell'altro. Per fare questo, di solito, conviene andare a mettere, ad esempio, in ordine gli elementi, in modo che due segmenti, uno subito più piccolo dell'altro, siano vicini e quindi sia in grado di capire che, ad esempio, questo segmento più lungo è i quattro terzi, così, a occhio dell'altro, o cinque quarti. Tenete presente che questi piccoli passaggi, quindi la scelta del tipo di oggetto, la scelta dell'attributo, la disposizione che consenta discrimination, comparison e assessment, è un qualcosa che normalmente qualunque software che fa visualizzazione è in grado di fare in maniera automatica. Quindi, se voi andate a creare un diagramma con Excel, ecco, questa operazione qua, magari non quelle linee ma con delle barre, invece di segmenti delle barre, ve la fa automaticamente, ma qualunque software. Quindi, tutta questa serie di scelte sono, se vogliamo, abbastanza logiche, implicite e vengono messe in atto automaticamente dai software che sono in grado di disegnarci un grafico. Dietro, però, ci sta tutto il percorso che abbiamo visto prima e, soprattutto, in quel percorso ci possono essere tante piccole variazioni che, in un software abbastanza rigido è difficile andare a controllare, in un software un po' più flessibile invece posso andare a controllare e a raffinare molto meglio. Il terzo livello della nostra pipeline di visualizzazione è quello che si chiama Understanding e quindi devo andare a mettere il mio lettore, colui che osserva o meglio osservatore del grafico in condizione di comprendere comprendere che cosa? Comprendere il messaggio che io voglio andare a trasmettere ovvero l'informazione più importante che c'è nei dati. Tenete presente che io nella scelta di un grafico piuttosto di un altro di come lo visualizzo di alcuni dettagli sto andando a fare delle scelte esplicite quindi sto cercando di far passare un messaggio ben preciso quindi non è detto che i dati parlano da soli sono io che vado a scegliere quale messaggio far dire far portare dai miei dati voglio mettere in evidenza un aspetto piuttosto che l'altro quindi se partiamo ad un certo insieme di dati non esiste un'unica visualizzazione che è quella giusta per quegli insieme di dati la visualizzazione è giusta in funzione dell'insieme di dati che voglio visualizzare e dell'obiettivo che mi impongo o se volete della domanda che a cui voglio rispondere andando ad analizzare quei dati che tipo di comprensione posso avere posso avere delle variazioni tra misure quantitative quindi posso avere distribuzioni andare a vedere se i dati sono tutti grandi tutti piccoli sono raccolti o sparsi deviazioni quindi andare a vedere se ci sono alcuni dati alcuni numeri che sono anomali rispetto agli altri oppure di correlazione quindi andare a vedere se due sequenze numeriche sono correlate un'altra possibilità quando sostanzialmente però non ho più valori numerici ma ne ho uno quindi un'unica insieme di valori alla stessa categoria posso avere un ranking quindi posso andare a capire chi viene prima chi viene dopo posso avere delle relazioni parti tutto quindi dato un tutto voglio sapere quanto ciascun dato contribuisce a quel tutto l'andamento nel tempo oppure la distribuzione nello spazio e questi sono diciamo non tutti ma quantomeno i principali tipi di messaggi o tipi di analisi che io voglio fare su un insieme di dati ricordiamoci che il messaggio che io trasmetto è legato all'analisi che io immagino il mio osservatore voglia fare sui dati quindi se torniamo al nostro diagramma di prima se il mio compito è il ranking che cosa faccio? una buona soluzione è quella di andare a evidenziare il primo quindi qui vedete che ho fatto due operazioni uno ho ordinato il più grande in alto perché perché normalmente per il modo in cui noi percepiamo leggiamo i diagrammi ciò che sta in alto è quello che vediamo per primo quindi quello più importante altro aspetto ho evidenziato con un colore più vivace rispetto agli altri questo elemento per cui che operazione ho fatto ho voluto trasmettere il messaggio di evidenziare chi sta in cima ecco mentre i passi precedenti quindi la disposizione che mi permette di fare diciamo il ragionamento visuale normalmente sono supportati da quasi qualunque sistema di generazione di grafici quando vado a parlare di understanding ecco qui devo andare ad aggiungere io qualcosa perché perché sostanzialmente mentre quei tre task di cui abbiamo parlato prima ovvero discrimination comparison e magnitude assessment sono sostanzialmente gli stessi cioè qualunque grafico io voglio che il mio osservatore sia in grado di fare quelle operazioni ecco il tipo di messaggio che io voglio trasmettere quindi voglio fare un ranking oppure voglio andare a vedere una correlazione o altro è invece un qualcosa che dipende fortemente da quello che ho io in mente e ovviamente il software non può saperlo quindi andiamo a vedere come funziona la percezione per capire qual è il modo migliore di andare a fare le operazioni che abbiamo visto prima cioè capire che tipo di codifica fare andare a vedere come agevolare quelle tre operazioni di discriminazione confronto e valutazione quantitativa ripeto buona parte dei sistemi in giro fanno queste operazioni in maniera automatica non è detto che le facciano sempre bene quindi partiamo dal basso e parliamo di percezione per quanto riguarda la percezione un modello tutto sommato abbastanza semplice di come avviene la percezione è quello che vediamo illustrato qui dove abbiamo una parte diciamo fisica di sensazione e una parte più cognitiva di percezione la parte fisica sulla parte fisica possiamo fare poco allora possiamo fare poco fino a un certo punto nel senso che dobbiamo mettere il nostro osservatore nelle migliori condizioni qui non so la luminosità del video è un qualcosa che deve essere curato per permettere la percezione corretta però sostanzialmente partiamo da uno stimolo luce diretta come quella del monitor che avete davanti o riflessa come la carta che magari avete di fianco colpisce l'occhio l'occhio genera dei segnali elettrici che vengono elaborati diciamo dal cervello poi un pochettino più complicato all'interno del cervello ci sono tre tipi di memoria quella che viene chiamata iconica quella di breve termine e quella di lungo termine quali sono le caratteristiche di queste tre memorie beh sostanzialmente la memoria iconica è in grado di andare a memorizzare alcune alcuni tipi di informazioni standard predefiniti ok è quel meccanismo di elaborazione che viene chiamato preattenzionale in effetti nel nostro meccanismo di percezione e di elaborazione dei dati ci sono due sottosistemi nel cervello uno che funziona in maniera molto veloce e senza particolare supervisione in maniera quasi automatica in maniera inconscia se volete e un altro che invece lavora in maniera molto più complicata se volete richiede molta più energia molto più tempo e invece elabora le informazioni in maniera più conscia a livello inconscio noi percepiamo alcuni attributi per appunto detti preattenzionali senza neanche considerarli senza pensarci su e normalmente questi attributi vengono memorizzati nella memoria che viene richiamata iconica dopodiché avviene una prima elaborazione e i concetti principali vengono memorizzati all'interno di quella che è la memoria a breve termine la memoria a breve termine ha due caratteristiche fondamentali uno è a breve termine come suggerisce il nome due ha una dimensione limitata quindi in grado di contenere poche informazioni quali sono le informazioni sono le informazioni che noi in maniera inconscia per abitudini per il nostro modo di osservare per esperienze a causa di esperienze precedenti andiamo a isolare e quindi nella memoria a breve termine ci sono soltanto alcune informazioni della scena che noi vediamo a questo punto quelle informazioni vengono elaborate in maniera più conscia e un pochettino più lenta da quello che viene chiamato il sistema 2 e un'informazione sintetizzata viene messa nella memoria a lungo termine dove sostanzialmente poi resta per tanto tempo e da cui è possibile poi successivamente andarla a recuperare questo è un meccanismo tutto sommato molto semplificato quindi è un modello molto semplificato di quello che avviene nella nostra percezione però tuttavia è in grado di spiegare alcuni aspetti a questo punto vi faccio un piccolo esperimento ok partiamo da questo da questa immagine osservatela bene ok l'avete vista a questo punto ecco qui questa è un'altra immagine diversa dalla prima cosa è cambiato cosa è cambiato potete tirare indovinare va benissimo punto bianco sull'ala ok no altre idee la saturazione dell'immagine no in realtà la saturazione è uguale altre meno persone quindi c'è qualcuno che è scomparso le ombre no ecco quello è un trucchetto che di solito funziona niente ecco potrebbe essere un trucco no in realtà è cambiato allora provo a tornare un attimo indietro vediamo se vedete torno alla prima immagine ecco questa è di nuovo la prima immagine la lascio qualche secondo e poi vado di nuovo avanti alla seconda immagine avete avete notato qualche cosa rispetto a prima la scala non c'è il motore bravo ottimo sono almeno 5-6 anni che faccio questo 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 giochino e la prima volta sì sicuramente adesso vi spiego anche il perché è difficile non c'è il motore adesso ve lo faccio più velocemente vedete il motore che compare scompare ok fatto così veloce direi che fosse un po' più è un po' più evidente allora che che corso segui Alberto tu che hai indovinato che corso di laurea gestionale ok no magari un ingegnere aeronautico quindi mi sarei spiegato l'attenzione allora perché è così difficile perché sostanzialmente io ho sfruttato la debolezza del vostro sistema di percezione che in realtà è una debolezza anche mia cioè io so qual è la risposta per cui per me è facile qual è l'idea di base è che questa è la prima immagine voi la guardate e ovviamente avete la possibilità di andare a memorizzare dentro la memoria a breve termine alcuni concetti base cioè ci sono dei militari salgono alla scala l'aereo è grigio ecco la bandierina la bandiera qui credo che sia canadese in alto spicca perché è rossa ci sono le ombre ci sono queste righe gialle ci sono probabilmente qualche cosa qua sullo sfondo ma ci interessa poco e l'aereo in generale è l'ala qua sopra noi elencati un po' così a caso poi ovviamente ognuno ha un modo leggermente diverso di andare a costruire a estrarre le informazioni di base di queste immagini il punto è che questi pezzi di informazione vanno a finire nella memoria a breve termine quindi non possono essere tanti perché la memoria a breve termine tendenzialmente è limitata normalmente va da 5 a 9 concetti quindi più i concetti sono sofisticati meno meno ce ne stanno però indicativamente sono 5 9 particolari che voi potete andare a memorizzare ovviamente però noi memorizzate il particolare come fosse una fotografia memorizzate il particolare come concetto quando io vi mostro questo schermo intermedio e lo lascio lì per 3 secondi e poi vi faccio vedere l'altro io ho dato giustamente il tempo alla vostra memoria a breve termine che comunque era limitata di svuotarsi a questo punto cosa succede che voi avete nel memoria a lungo termine una versione ancora più sintetica e meno e meno dettagliata della prima immagine quindi a meno che voi la vostra attenzione si fosse concentrata sul motore per qualche motivo per caso perché siete appassionati di aerei non lo so nella vostra ricostruzione quello è un dettaglio che ormai è perso quindi questo meccanismo si chiama change blindness o verocecità al cambiamento ci sono se andate sul link che trovate lì ci sono anche altri altri esempi di cecità al cambiamento dove avete due due immagini che decisamente sembrano uguali ma in realtà hanno questa piccola differenza che normalmente buona parte delle persone non vede questo questo tipo di diciamo modello della percezione è anche quello che permette di andare a esempio spiegare la famosa regola del 7 più o meno 2 che è una regola che dice che noi siamo in grado e la dimensione poi della memoria a breve termine di comprendere in un unico colpo un'immagine del testo o qualcosa che abbia da 7 cioè 7 più o meno 2 quindi da 5 a 9 concetti ed è anche il motivo per cui normalmente quando voi fate dei lucidi tendenzialmente non andate a mettere 15 righe di descrizione mettete poche mettete 2 3 4 5 punti o qualche sottopunto se ne mettete tanti di più è impossibile che questo che il contenuto di questa slide possa essere percepito e compreso in unica volta non che non sia percepito ma richiede più passate quindi andare a vedere un pezzo poi l'altro eccetera e costruirlo e metterlo assieme che richiede molta più fatica in generale in tutto questo meccanismo se voi impiegate molto tempo a costruire nella memoria a lungo termine una rappresentazione completa il sistema 1 che è quello che lavora in maniera quasi automatica inconscia normalmente si è già fatto un'idea e voi vi siete persi i dettagli di quello che è il sistema di quello che è visualizzato sull'immagine e quindi rischiate di avere un'idea sbagliata semplicemente perché la comprensione approfondita richiede troppo tempo quindi o dedicate particolare attenzione al grafico o alla slide o a quello che state osservando oppure la vostra comprensione è quella che intuitivamente vi sembra più corretta non è detto che sia quella giusta perché magari vi è sfuggito un dettaglio quindi l'idea è andare a sfruttare i meccanismi di percezione visiva in modo tale da permettere una comprensione il più immediata possibile perché più la comprensione è complicata richiede tempo meno saremo in grado di comprendere dettagliatamente e correttamente il nostro grafico e ovviamente da dove iniziamo iniziamo dal primo passaggio da quelli che sono gli attributi pre-attenzionali a questo punto se io vi chiedessi contate quante volte compare il numero 5 in questo schermo è un'ipotesi non vi chiedo di farlo altrimenti potrei prendermi un caffè tranquillo per 5 minuti poi tornare e avrei 2 o 3 numeri diversi da ciascuno di voi perché è un compito molto complicato ok i numeri sono lì sono tanti è difficile seguire le linee o le colonne ovviamente se vi dessi lo stesso compito non con questo con questa visualizzazione ma con quest'altra le cose cambiano molto più semplice ecco noi non andremo a usare dei grafici per chiedere ai nostri osservatori di contare quante volte compare numero 5 anche se qualche volta ci andiamo vicino però l'idea è se abbiamo in mente che operazione di comprensione deve fare il nostro osservatore possiamo andare a giocare sugli attributi dei nostri elementi del nostro grafico in modo da facilitare il compito e questa operazione la facciamo andando a giocare con la codifica ok quindi scegliamo il tipo di codifica che ci consente di fare di massimizzare la velocità e l'intuitività con cui è possibile svolgere le operazioni di compressione del grafico in generale quando vado a fare la codifica uso degli approcci leggermente diversi a seconda del fatto che le informazioni che io voglio andare a quantificare siano di tipo quantitativo numeri diciamo per semplicità oppure informazioni di tipo categorico che so nomi di regioni colori e c'è una piccola differenza a seconda che le categorie che voglio andare a codificare siano ordinate oppure siano semplicemente categorie distinte quindi se io devo andare a codificare che so dei livelli di tipo basso medio alto userò un certo tipo di codifica se devo andare a codificare delle informazioni tipo colore verde rosso blu utilizzerò un altro tipo di codifica magari colore stesso questi sono sostanzialmente gli attributi che abbiamo a disposizione per codificare i nostri dati sono quattro categorie diverse diciamo quelli più numerosi sono nella categoria della forma in cui ho orientamento la lunghezza o la distanza spessore di una linea dimensione o area la forma la curvatura la presenza di segni aggiuntivi la chiusura all'interno di una figura esterna quando vado a parlare di colore ho la tinta e di intensità e se vogliamo anche la saturazione quando vado a parlare di posizione nello spazio ovviamente ho la posizione quindi è di per sé molto semplice posso avere anche altri attributi di movimento ad esempio il flickering quindi il lampeggiare di un qualche cosa la direzione in cui qualcosa si muove o la velocità con cui si muove e sono tutti aspetti che possono essere utilizzati per andare a codificare qualcosa è ovvio che ad esempio la direzione di movimento non è che mi permetta di codificare tante cose però in via di principio può essere utilizzata questi comunque sono quelli che sono gli attributi preattenzionali nel senso che io senza pensarci sono in grado osservando una scena di comprendere immediatamente che qualche oggetto si sta muovendo in quale direzione e a quale velocità in generale quando devo andare a fare una visualizzazione l'obiettivo normalmente è quello di andare a permettere a chi osserva le tre operazioni discriminazione confronto e malnutri assessment per andare a mettere l'osservatore nelle migliori condizioni per poter svolgere questi tre task di base di percezione visiva è bene tenere presente di alcune regole base che sono valide sempre quando parliamo di percezione prima quella che si chiama la just noticeable difference immaginiamo di avere due dimensioni due grandezze non so due lunghezze due luminosità due aree normalmente D è quella che si chiama la minima differenza osservabile ovvero se io ho due dimensioni diciamo lunghezze pertanto per semplicità x e x più d ecco x e x più d riesco a percepirle come diverse quindi proprio discrimination siamo ancora al primo passo cioè tra discrimination e comparison se la differenza tra le due è inferiore a questo valore D non riesco a percepire la differenza se la differenza tra i due è maggiore di D allora riesco a percepire i due come differenti ovviamente a capire quale è maggiore e quale è minore questa differenza D minima differenza osservabile dipende da tanti fattori fattori soggettivi quindi ognuno di noi ha una capacità di percezione se io guardo con gli occhiali o senza mi cambia enormemente il valore di D qualcuno è più attento qualcuno vede meglio o peggio alcuni aspetti ambientali è chiaro che se io sono lontano se c'è la nebbia se è buio se il i colori sono sono troppo attenui per cui non riesco a vederli bene questi influenzano e il terzo fattore che influenza è la dimensione fisica quindi quanto sono grandi questi x per cui qui entra una delle leggi della percezione che si chiama la legge di Weber che dice che la minima differenza osservabile è sostanzialmente una funzione di x stesso ovvero la minima differenza osservabile è in pratica a parità di tutti gli altri fattori un qualcosa che può essere espresso come una percentuale del nostro valore x la conseguenza di questa legge è che se io ho delle lunghezze è molto più facile andare a confrontare delle lunghezze che hanno una differenza percentualmente più alta rispetto a una differenza percentualmente più piccola questo abbastanza indipendentemente da quanto sia la lunghezza effettiva non è esattamente intuitivo per cui non mi interessa sapere se sono molto molto lunghi o corti ma mi interessa sapere se la percentuale di differenza che c'è tra l'uno e l'altro è superiore a quel livello minimo che io riesco apprezzare per cui se io devo andare a fare questi confronti tra i primi due c'è qualcuno di voi che è in grado di dirmi qual è più lungo e qual è più corto delle due barre probabilmente no ok ma perché perché sostanzialmente io devo andare a immaginare di allinearli e poi vedere quanto sono separate se volete si tratta di andare a vedere la doppia differenza di di un estremo e dell'altro ok quindi in generale primo aspetto importante se i valori se le lunghezze non sono allineate o gli oggetti non sono allineati in qualche modo faccio molta più fatica se sono allineati riesco un po' meglio a valutare la differenza ok perché qui tutto sommato la vedo però quella differenza che c'è lì è tutto sommato abbastanza avvicina alla minima differenza percepibile e vi rendete conto che dovete fare abbastanza attenzione per capire quale è più lungo e quale è più corto ora guardate la coppia di barre a destra è immediato andare a osservare che quella di destra è più lunga di quella di sinistra ma perché è più facile perché in realtà nell'ultimo caso voi non andate a confrontare le due barre arancioni voi andate a confrontare queste due barre bianche la differenza assoluta è esattamente la stessa ok le bianche sono il complemento delle arancioni a un certo limite quindi la differenza assoluta tra queste due barre tra le due barre arancioni e le due barre bianche è esattamente la stessa tuttavia io riesco a apprezzare molto meglio la differenza tra le due barre bianche perché perché percentualmente la differenza è molto più grande ok quindi la differenza in percentuale tra queste due barre è del non so 50% la differenza in percentuale tra le due barre arancioni invece sarà un 5% quindi prima osservazione se devo andare a confrontare degli elementi conviene che siano allineati vale per le barre di cui voglio andare a vedere l'altezza ma se avete due punti riferiti a un asse ecco se i due assi non sono allineati e fate molta più fatica a confrontarli quindi allineare gli elementi è già un primo passo per facilitare quello che è il confronto un secondo trucco che possiamo utilizzare è quello di andare ad aggiungere dei riferimenti in modo che io possa scegliere se fare un confronto tra queste lunghezze maggiori arancioni oppure tra queste due bianche dove il confronto tra le due bianche per la legge di Weber è molto più facile perché la differenza in percentuale è decisamente superiore rispetto alla minima differenza osservabile seconda legge importante per quanto riguarda la percezione la legge di Stevens quando io vado a confrontare quando io vado a confrontare due oggetti o meglio dimensioni di due oggetti e voglio fare il confronto il valore il valore che io percepisco visivamente normalmente è dato da una costante che di nuovo dipende da un sacco di aspetti ambientali soggettivi eccetera per x dove x è il rapporto effettivo tra le due dimensioni quindi se devo andare a confrontare due lunghezze è il rapporto tra le due lunghezze ma x non è messo così è elevato alla beta dove beta è una un valore che dipende dalla dimensione spaziale ovvero se sto confrontando due elementi in una dimensione in due dimensioni o in tre dimensioni cosa vuol dire vuol dire che se confronto due lunghezze quindi una dimensione quello il rapporto che io percepisco tra le due lunghezze è sostanzialmente il rapporto vero quello geometrico che posso misurare con un righello sulla carta elevato a beta dove beta è un qualcosa che sta tra 0,9 e 1,1 quindi grosso modo elevato a 1 cioè il rapporto che percepisco tra le lunghezze di due segmenti è sostanzialmente uguale al rapporto che effettivamente esiste geometricamente se invece vado a prendere un'area quindi due dimensioni e confronto visivamente il rapporto tra le due aree quello che percepisco è sostanzialmente il rapporto che effettivamente esiste tra le aree x elevato a un beta che sta tra 0,6 e 0,9 quindi 0,7 se lo faccio su dei volumi il rapporto che io percepisco è uguale al rapporto reale tra i volumi elevato a qualcosa che è stata 0,5 e 0,8 0,5 è praticamente la radice quadrata quindi in pratica se io un certo rapporto tra lunghezze aree o volumi che è quello che ho qui in ascissa quello che io in realtà percepisco visivamente è quello che ottengo che vedete riportato qua in ordinata quindi quello verde è sostanzialmente un qualcosa che varia attorno al rapporto ideale quindi se è 10 circa 10 potrei arrivare a 12 potrebbe essere 7,5 se vado a guardare un'area ecco se il rapporto 1 a 10 tra due aree effettivo misurato con righello quello che percepisco è intorno a 5 se lo faccio su volumi è ancora peggio perché 1 a 10 corrisponde a qualcosa che sta qui attorno che è 4 circa quindi praticamente che rapporto c'è tra questi due quadrati in termini di area 1 a 4 allora 1 a 4 1 a 5 il rapporto vero è 1 a 5 però esattamente come dice la legge voi l'avete sottostimato se devo vedere il diagramma che c'è prima se il rapporto è 4 che è circa qui scusate se è 5 che è circa qui il rapporto che voi percepite è qui e che è attorno tra 3 e 4 ok e il rapporto tra questi due segmenti 1 a 3 sì esatto e 1 a 3 molto più facile conseguenza se dovete andare a fornire a codificare dei valori e quello che deve fare l'osservatore è andare a valutare il rapporto tra questi valori che voi avete codificato esattamente è meglio lavorare con le barre con le lunghezze piuttosto che con le aree perché le aree portano a sottostimare il rapporto ok quindi molto molto semplice è il motivo per cui ad esempio i diagrammi che vanno abbastanza di moda ultimamente ovvero vedere le bolle diagrammi a bolle e qui ho queste circonferenze che rappresentano dei valori ecco quando io vado a confrontare due bolle tra l'altro con i quadrati è più facile perché basta confrontare il lato sulla circonferenza è un po' più complicato se io due circonferenze scusate due cerchi e voglio andare a confrontare le aree faccio molta più fatica e tendenzialmente sottostimo i rapporti rispetto a quello che potrei fare confrontando le lunghezze ok e questo è sostanzialmente diciamo così la prima conclusione della giornata meglio lavorare su una dimensione rispetto a due non vi ho fatto l'esempio delle tre dimensioni perché ovviamente è ancora peggio e insomma tendenzialmente e poi soprattutto da un punto di vista diciamo realizzativo è un po' difficile avere le rappresentazioni tridimensionali quindi oltre a essere molto penalizzate per la legge di Stevens sono difficili da realizzare e hanno tutta una serie di altri problemi bene a questo punto direi che sono le 5 possiamo fare una piccola pausa diciamo 15 minuti alle 5 e un quarto ci ritroviamo e andiamo a vedere i vari attributi di forma come possiamo utilizzarli per andare a codificare dei valori ci rivediamo tra in realtà 12 minuti allora stavamo parlando di alcune regole che leggi che regolano la percezione visiva a questo punto andiamo a osservare un po' più dettagliatamente quelle che sono i vari attributi preattenzionali e di come possiamo utilizzarli per andare a codificare se possiamo utilizzarli per andare a codificare dei valori numerici oppure dei valori che sono nel caso più semplice puramente categorici i vari attributi sono riepilogati qui quindi abbiamo l'orientamento la lunghezza delle linee lo spessore la dimensione la forma la curvatura la presenza di segni aggiuntivi e la chiusura all'interno di un'altra figura ovviamente tutti permettono di andare a vedere una qualche differenza quindi tutti quantomeno possono essere utilizzati per andare a identificare delle categorie quindi distinguono quantomeno due categorie con o senza corto lungo sottile spesso eccetera eccetera quando parliamo di orientamento sostanzialmente quello che noi andiamo a misurare è la pendenza o l'angolo ora mentre se andiamo a confrontare i due angoli a e b grossomodo riusciamo a valutarli quindi riusciamo a capire chiaramente qual è più grande e qual è più piccolo anche se è difficile capire quanto è più grande o quanto è più piccolo per cui se io vi chiedessi di dirmi quanto è più grande l'angolo a rispetto all'angolo b potete tirare un po' indovinare ma è difficile dare un numero preciso e una volta virgola 2 1,3 1,4 1,5 1,8 insomma il 50% in più in circa esattamente è il massimo che riusciamo a fare ok non riusciamo ad avere una quantificazione precisa quindi è difficile insomma non è raccomandabile andare a codificare dei valori che noi vogliamo codificare in maniera precisa utilizzando puramente un angolo è ovvio che ci sono alcuni angoli facili da identificare se abbiamo un angolo retto rispetto a un angolo piatto ecco questi sono facili però non è sempre così facile un altro aspetto che è importante considerare è che l'orientamento dell'angolo può andare a influenzare come lo percepiamo per cui tendenzialmente gli angoli che hanno una bisettrice orizzontale quindi come l'angolo D che osserviamo qui tendono ad apparire un po' più ampi rispetto a quelli che hanno una bisettrice verticale come l'angolo C ok in realtà facendo bene attenzione osservandoli con cura uno nota che effettivamente poi sono uguali però l'impressione immediata che abbiamo è che uno è più grande dell'altro per cui oltre ad non avere una valutazione precisa abbiamo anche il problema che è dato dall'orientamento dell'angolo che ci può dare un'impressione leggermente diversa rispetto a quello che è il dato reale un altro aspetto importante da considerare è che la pendenza e l'angolo non sono sempre la stessa cosa la pendenza è sostanzialmente B diviso A che è la tangente dell'angolo mentre l'angolo varia così in maniera lineare tra 0 e 90 se consideriamo almeno il primo quadrante la tangente ovviamente tende a infinito per quando l'alfa arriva a 90 gradi per cui la valutazione della pendenza rispetto a quando voglio andare a valutare la pendenza tendenzialmente ricado in una valutazione dell'angolo il problema è che se ho un piccolo errore nella valutazione dell'angolo questo si ripercuote in una valutazione un errore molto più grande in termini di dipendenza per cui se io ho un errore diciamo epsilon nella valutazione dell'angolo rispetto all'angolo effettivo che è alfa la differenza che ho in termini di pendenza è la tangente di A più alfa meno la tangente di alfa che è uguale a E a epsilon scusate per la derivata prima della tangente di alfa che è uguale a epsilon diviso il coseno al quadrato di alfa ovviamente il coseno tende a zero quando alfa va a 90 gradi e quindi uno sul coseno tende a infinito quindi più più l'angolo è vicino alla verticale più un piccolo errore nel valutare l'angolo cambia tantissimo nella mia valutazione della pendenza quindi tutti questi aspetti messi assieme ci portano a considerare che l'orientamento angolo pendenza che sono tutti ovviamente collegati non sono l'ideale nell'andare a codificare un valore preciso riusciamo abbastanza facilmente a valutare a fare un confronto ma non riusciamo quindi facciamo i primi due passi riusciamo a discriminare due angoli e riusciamo a capire qual è quello più grande con una buona approssimazione e con il problema del fatto di orizzontale verticale che potrebbero sembrare diversi e quello che riusciamo in maniera molto difficile molto più difficile a fare è andare a confrontare il rapporto quindi la grandezza relativa di un angolo rispetto all'altro per cui se abbiamo bisogno di fare questo tipo di operazione gli angoli rispetto ai dati che vogliamo rappresentare ecco l'angolo non è proprio l'ideale la forma ecco la forma di nuovo non è non è un qualcosa che possiamo utilizzare per definire delle quantità ok a meno che abbiamo dei caratteri quindi scriviamo proprio un numero però diciamo che non è una rappresentazione grafica ok è una rappresentazione testuale un altro modo di andare a utilizzare la forma per per rappresentare dei valori è ripetere le le forme quindi tre puntini sono più di un puntino ok però è un po' un altro tipo di codifica un altro un altro aspetto importante è che mentre per gli angoli riusciamo a capire chi è più grande e chi è più piccolo qui la x è il più chi è più grande e chi è più piccolo non c'è un modo normale di andare a confrontare oppure il cerchio e il triangolo chi è che rappresenta il valore più grande per cui l'unica cosa che riusciamo a rappresentare con questo tipo di attributo è una serie di categorie diverse che non hanno un particolare ordine lunghezza è inutile che ci ritorni sopra abbiamo visto che funziona molto bene funziona meglio rispetto alle aree ad esempio è bene che siano allineati e l'ideale è avere qualche riferimento in modo da andare ad aumentare quella che è la minima differenza notabile percepibile attenzione che quando avete dei segmenti ecco il contesto può darvi in inganno sicuramente avete già visto questa illusione tantissime volte e tutte le volte che la vedete e vi dicono qual è quello più lungo e voi tendenzialmente direste quello in alto in realtà quello in alto è esattamente uguale a quello in basso ma direi che lo sapevate già per cui il contesto i segni che ci possono essere agli estremi sopra le linee possono trarre in inganno la curvatura anche qui non c'è un ordine c'è un ordine però è difficile andare a se non impossibile andare a vedere una dimensione relativa spessore possiamo grossomodo identificare un ordine quindi andare a vedere che ad esempio B è più spesso di C C è più spesso di D e D è più spesso di A quante volte quindi A sta a B 1 A non è non è facile per cui riusciamo a codificare qualcosa che sia ordinale ma difficilmente riusciamo a codificare dei numeri la presenza di segni di nuovo ci codifica delle categorie ma non ci dice molto sulle aree e siamo di nuovo al giochino di prima in questo caso di nuovo 1 A vediamo se questa volta riuscite a a trovare a indovinare meglio il rapporto 10 9 15 11 ok allora Giulia Riccardo sono quelli che ci sono andati più vicini perché 1 A 16 probabilmente non lo so se il vostro ragionamento ma conoscendo che uno tende a sottostimare avete immaginato qualche numero e poi l'avete aumentato nonostante quello non avete neanche raggiunto il valore che è 1 A 16 quindi di nuovo molto molto difficile avere una valutazione precisa del rapporto delle aree tra l'altro il fatto che i valori che avete detto variano da 11 mi pare da 9 a 15 capite che c'è un altro problema che la percezione non è univoca e quindi dipende un po' dalla persona che lo osserva che non è proprio il massimo se vogliamo fare una visualizzazione corretta la chiusura di nuovo non ci dà nessun aspetto ecco un altro attributo interessante è che è quello della posizione spaziale che è quello che utilizziamo nel piano cartesiano che avete imparato sin dalle scuole elementari per cui io vado a definire la posizione rispetto a un asse attenzione che l'idea della distanza è molto legata è molto simile alla posizione spaziale quindi vado a vedere la distanza tra due punti invece dell'allineamento lungo un asse attenzione quando dovete fare dei confronti perché se andiamo a vedere i punti rispetto allo stesso asse quindi alla stessa scala riusciamo a farlo abbastanza bene se le scale sono multiple e non sono allineate inizia a essere già più complicato questo e questo non è immediato capire che questo qui è un po' più in alto di quest'altro richiede un po' di osservazione quindi lo sforzo e noi non vogliamo che le persone che fanno che vanno a osservare i nostri grafici debbano essere devono sforzarsi per leggere il valore vogliamo rendere la vita facile attenzione le distanze funzionano bene per i punti ma non tanto per le linee perché se vedete questo esempio qui abbiamo due linee parallele ecco se vogliamo andare a vedere la distanza tra le due linee la distanza è questa questa linea ok è il modo in cui noi andiamo a misurare la distanza prendiamo un punto immaginiamo una tangente la perpendicolare alla tangente e lungo quella misuriamo la distanza quindi questa è la distanza che noi visivamente siamo in grado di apprezzare in realtà la distanza che noi dovremmo andare a misurare è questa qua in verticale quindi per la stessa scissa andiamo a vedere il valore di una linea e il valore dell'altra che è molto diversa come vedete quindi se ci interessa andare a far apprezzare la distanza tra due tra due linee ecco dobbiamo fare attenzione che venga valutata in maniera corretta in generale invece di andare a far fare l'operazione geometrica astratta o concreta al nostro osservatore conviene piuttosto invece di andare a rappresentare le due linee rappresentare semplicemente la differenza tra le due linee così evitiamo ogni dubbio attributi del colore tipicamente tre tinta saturazione e intensità detta anche luminosità luminanza valore ok nomi sono tanti questi sono i tre attributi che definiscono un colore la tinta che se volete è quello che chiamiamo spesso il colore quindi rosso giallo verde eccetera quanto è saturo e quanto è luminoso se andiamo a vedere la tinta mentre riesco a distinguere abbastanza bene i colori in generale poi c'è un una certa percentuale della popolazione tra il 2 e il 5 per cento mi pare a seconda dei paesi di persone che hanno varie forme di cicità al colore l'altonismo buona parte della popolazione quindi tra il 95 e il 98 per cento della popolazione riesce a distinguere bene i colori il punto è che se vogliamo andare a rappresentare dei valori che sono ordinati non c'è un ordine predefinito dei colori cioè il verde è di più o di meno del blu non esiste dovrei avere una leggenda o qualcosa che lo spiega ma non c'è un'univoca percezione dell'ordine se invece vado a vedere l'intensità luminosa ecco qui sì c'è un ordine nel senso che il nero e il bianco sono ordinati vari livelli intermedi di grigio o qualunque colore sia cambiano molto quindi abbiamo una una buona percezione dell'ordine percezione che è presente anche quando parliamo di saturazione anche sulla saturazione è un po' più difficile andare a distinguere ok vari valori se riguarda i valori estremi sì ma tendenzialmente l'ordine è molto più evidente sulla luminosità è il motivo per cui normalmente quando voglio andare a codificare dei valori che siano in ordine faccio variare contemporaneamente luminosità e saturazione in questo modo vario due attributi contemporaneamente nello stesso modo e aumento la capacità di andare a distinguere come separati dei colori che sono diversi attenzione che il contesto potrà rinigando domanda i due quadrati a e b della scacchiera quale è più chiaro e quale è più scuro ovviamente voi direte beh se mi fanno domanda per una cosa così evidente probabilmente il trucco c'è effettivamente c'è il trucco perché se io vado a prendere un pezzo di quadratino e lo porto avanti vedete che l'intensità di grigio è esattamente la stessa però trovandosi in un contesto diverso sembra decisamente più chiaro questo è un esempio uno dei tanti che dovrebbe suggerirvi di non usare degli sfondi non uniformi nei vostri grafici perché se avete dei colori i colori potrebbero essere percepiti molto diversamente anche se sono uguali o diversi anche se sono lo stesso quindi lo sfondo dei grafici tendenzialmente deve essere sempre uniforme e possibilmente neutro in generale usiamo uno sfondo uniforme che eviti distrazioni e un colore che abbia un sufficiente contrasto con gli elementi che andiamo a mettere dentro quindi evitiamo del tutto dei background non uniformi quindi se volete mettere lo sfondo con i gattini va bene sul vostro pc ma non sui grafici come andiamo utilizzare i colori li possiamo utilizzare per un tipo di dato che debba essere percepito come semplicemente ordinato ci sono vari tipi di palette se voi andate su questo sito colorviewer2.org trovate una serie di palette possibili che sono utilizzabili per andare a rappresentare diverse sequenze di dati un uso abbastanza comune è quando io ho dei valori che sono divergenti quindi ad esempio ho valori che sono nulli e poi valori positivi e negativi in questo caso posso utilizzare due colori estremi e andando in mezzo a variare luminosità e saturazione e trovando un punto intermedio questi sono ben distinguibili e abbiamo un senso di ordine che è di nuovo facile da capire sicuramente se avete già fatto esami dall'oculista avete già visto questa immagine o qualcuna simile c'è una percentuale non trascurabile di persone che ha una cicità ai colori e quindi non riesce a percepire la differenza tra diversi colori quella forse più diffusa è la cicità rosso verde da qui questo esempio per cui a meno che voi vogliate giocarvi il 5% dei possibili osservatori dei vostri grafici evitate di mettere due colori che una persona che ha problemi di visione del colore non è in grado di distinguere quindi attenzione a come scegliete i colori se voi andate su questo sito che vi citavo prima colorbreware 2 le palette che vi vengono generate possono essere generate in modo da essere da garantire una buona robustezza anche per persone che abbiano città al colore di nuovo attenzione questo non vuol dire che non dovete mai mettere verde e rosso assieme il punto è che verde e rosso devono anche essere distinti da altre caratteristiche ad esempio la luminosità e l'intensità e la saturazione quindi se avete un verde e un rosso che hanno una saturazione e una luminosità diverse ecco questi verranno percepiti diversi anche da chi ha problemi di percezione del colore quindi questo è un incentivo ulteriore a sfruttare non soltanto la tinta come codifica dei colori ma anche la saturazione e la luminosità come linee generali a questo punto la codifica di valori quantitativi tendenzialmente viene fatta usando punti e usando la posizione rispetto a un asse o a più assi questo è il tipo di codifica che ci dà ottimi risultati in termini di percezione quindi è quella che garantisce una maggiore accuratezza tra il valore codifico e quello che viene percipito dalle persone in seconda posizione ci sono le linee quindi la loro lunghezza o la posizione rispetto alle asse o in seconda battuta la la pendenza la lunghezza delle barre la dimensione dell'area oppure il conteggio di elementi se invece vogliamo andare a codificare delle variabili che non sono numeriche ma sono categoriche possiamo utilizzare molti altri attributi alcune vanno bene per tutte altre vanno bene e possono essere applicati con buoni risultati anche se le variabili hanno un ordinamento quindi la posizione e la dimensione ovviamente intensità e saturazione di cui abbiamo appena parlato sono spesso utilizzati per andare a codificare dei valori non numerici ma categorici che però hanno un ordinamento tra di loro gli altri la tinta la forma il pattern di riempimento lo stile della linea vanno bene per andare a distinguere diverse diverse categorie ma non ci permettono di andare a codificare un ordine quindi queste sono diciamo le linee guida per la visualizzazione ma il primo livello cioè la codifica il secondo livello quello di ragionamento è quello che prevede di andare a fornire degli elementi nel grafico che consentano di fare per l'appunto discriminazione confronto e valutazione relativa delle dimensioni quindi ci interessa andare a sfruttare la disposizione degli elementi all'interno del nostro grafico nel modo migliore per garantire questo tipo di operazioni ovviamente anche la codifica serve per andare a discriminare e garantire il confronto però ci sono altri elementi che permettono di massimizzare questo tipo di operazioni per fare questo andiamo a sfruttare quelli che si chiamano i principi di Gestalt Gestalt è una parola tedesca che significa grossomodo un pattern una struttura tipica i principi di Gestalt sono questi sei qua similarity connection closure proximity enclosure e continuity quindi velocemente quando parliamo di prossimità tendenzialmente andiamo a indicare la proprietà che permette di andare a percepire come parte dello stesso gruppo o separati da un altro gruppo elementi che siano più o meno prossimi l'uno all'altro quindi è chiaro che se io rappresento i punti come qui a sinistra li percepisco come tutti assieme non differenziati se li rappresento come qui a destra invece percepisco chiaramente che queste due colonne le prime due colonne le seconde due le terze due sono accoppiate per cui il principio di prossimità ci permette di andare ad esempio a dire che se metto un'etichetta vicino a un dato automaticamente percepisco quell'etichetta come legata a quel dato la similarità è un altro pattern quindi anche in presenza della stessa distanza la similarità mi permette di percepire come facenti parte di un unico gruppo gli oggetti che sono tra i loro simili e sono diversi dagli altri l'enclosure è un altro principio che ci permette di di percepire come un unico gruppo elementi che sono racchiusi attenzione che l'enclosure può funzionare in due modi sia con una semplice linea come in questo caso sia con uno sfondo uniforme quindi non è necessario mettere una linea chiusa ma posso anche semplicemente avere uno sfondo uniforme ecco questa è una tecnica che si usa abbastanza quando vogliamo andare a rappresentare delle tabelle invece di mettere delle linee che separano una riga della tabella dall'altra possiamo andare a mettere degli sfondi diversi alle righe e automaticamente queste vengono percepite come elementi diversi se fate caso la presenza di una linea netta così è molto più forte come interruzione rispetto a uno sfondo lo sfondo suggerisce un raggruppamento ma non blocca se volete lo sguardo quando noi ci muoviamo da un punto all'altro cosa che invece è molto più forte qui quindi se voi provate con lo sguardo a scandire la prima riga ecco i primi due percepite come uniti poi quando trovate la linea ecco avete un blocco se provate a scandire l'ultima linea ecco arrivate qui il penultimo punto lo percepite sì come separato ma il salto è molto meno forte rispetto a quello che incontrate quando avete questa linea quindi se vogliamo agevolare la scansione di una linea e la visione dell'insieme lo sfondo è sicuramente più indicato rispetto a una linea netta se invece vogliamo avere una separazione molto forte ecco che la linea è decisamente meglio la chiusura è data dalla nostra tendenza percettiva a identificare delle forme chiuse anche quando queste non ci sono quindi noi tendiamo a chiudere una forma ma andando a vedere anche quello che non c'è quindi questa serie di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segmenti noi lo vediamo come un rettangolo ok perché tendiamo a vedere le forme familiari anche qui sotto noi vediamo due triangoli uno dato da questi elementi neri e l'altro dato da questo spazio bianco ma ovviamente non ci sono ok è il nostro sistema percettivo tutta quella parte pre-attenzionale che tende a completare quello che noi vediamo in modo da ricondurlo a qualche cosa di noto e che è decisamente più facile interpretare quindi il triangolo è una forma a noi familiare e quindi il nostro sistema percettivo tende a ricondurre tutto ciò che assomiglia vagamente a un triangolo ad esso anche se non lo è la continuità sostanzialmente ci fa percepire come un tutt'uno una serie di elementi che sono in sequenza uno con l'altro anche se oggettivamente potrebbero non esserlo però noi tendiamo a vedere una continuità anche se non c'è e infine la connection che probabilmente è quello più forte assieme alla prossimità gli elementi collegati tra di loro vengono percepiti come facenti parte dello stesso insieme dello stesso gruppo quindi questo ci permette di andare a raggruppare elementi tra di loro in modo da semplificare la percezione a cosa servono i principi gestalt beh ad esempio se io ho due serie di dati in un grafico ecco posso utilizzare la similarità in forma e colore andando a usare un colore e una forma al quadrato all'arancione per una serie di dati e il viola e il rombo per l'altro ecco che qui noi siamo in grado di percepire due insiemi facciamo un po' più fatica qui quando c'è questo salto però tendenzialmente li percepiamo abbastanza come un tutt'uno sicuramente un risultato migliore ce l'abbiamo se noi abbiamo anche oltre alla similarità come principio anche la connessione come vi dicevo la connessione è molto forte molto potente come come meccanismo di raggruppamento quindi in questo caso è ovvio che oltre ad essere diversi in termini di colore di forma essendo pure connessi sono percepiti nettamente come due insiemi separati e riusciamo a percepirli come un tutt'uno o meglio come due due sotto insiemi possiamo applicare un terzo principio che è quello della prossimità andando a sostituire la leggenda che abbiamo qua con delle etichette che vengono messe vicino alle serie questo di nuovo altro principio di Gestalt la prossimità molto più forte rispetto alla similarità la similarità di solito viene utilizzata all'interno di una leggenda perché il colore e la forma che mettiamo nella leggenda richiama il colore e la forma che stanno nel nostro diagramma se invece di utilizzare la similarità vado a mettere la prossimità la prossimità è decisamente più forte quindi leggo decisamente meglio anche perché è vicino è un tutt'uno non devo saltare tra la leggenda e il grafico e quindi leggo meglio questa tecnica si chiama Direct Labeling cioè etichettamento diretto ed è un qualcosa che essenzialmente è bene applicare perché migliora decisamente la comprensione del nostro del diagramma altro esempio dei principi di Gestalt qui uso similarità qui tutte le barre arancioni fanno parte di una serie le barre viola un'altra serie e la prossimità questa coppia di barre è vicina e quindi viene in un certo senso percepita come facente parte di un gruppo e in effetti è il gruppo che fa parte del primo trimestre delle vendite del primo trimestre quindi le vendite del primo trimestre sono vicine e le vendite dirette sono arancioni e le vendite indirette sono viola posso aggiungere anche altri principi per cui ad esempio posso andare a mettere delle linee quindi aggiungendo l'enclosure oppure posso anche utilizzare l'altro principio che è quello della continuity che sostanzialmente mi fa vedere la base queste basi delle barre come se fossero effettivamente parte di un'unica linea e quando in realtà la linea non c'è però non metto la linea ma comunque come osservatore la percepisco e quindi le vedo come se fossero appoggiate sulla stessa base attenzione quando andiamo a utilizzare tanti elementi soprattutto quando parliamo di similarità che il numero di attributi diversi che noi riusciamo a percepire è limitato ed è normalmente di livelli diversi nello stesso attributo è limitato e normalmente intorno a un 4 come linea guida generale quindi se avete più di 4 colori più di 4 forme eccetera ecco iniziate a preoccuparvi del fatto che chi guarda il grafico non riesca a percepirlo tanto facilmente faccia molta più fatica motivo per cui il rainbow pies sono un qualcosa che non va bene qui abbiamo due problemi in realtà il primo è che il numero di attributi è decisamente superiore a 4 il secondo problema è che qui abbiamo una leggenda che usa la similarità sarebbe molto molto meglio se invece della similarità utilizzassimo la prossimità quindi invece di mettere una leggenda separata se le etichette fossero messe vicino ai singoli ai singoli spicchi in quel caso il numero di colori inizia a essere meno rilevante perché perché non c'è più la similarità e i colori vengono utilizzati semplicemente per andare a distinguere una fetta dall'altra ok quindi il colore non è più una codifica della di una categoria in sé ma è semplicemente un artificio che noi utilizziamo per andare a separare due fette diverse e poi in questo caso sono uno dei motivi esattamente per cui ho altro perché comunque altrimenti ho tantissime categorie e mi ci perdo oppure allora questo è uno dei motivi l'altro l'altro possibile motivo è che non mi interessano i dettagli dell'altro ok sondaggi politici non mi interessano i partitini sotto il 2% perché tanto non contano nulla e quindi dico altro oppure se inizio ad avere una una serie di dati tantissimi molto numerosi è molto più difficile interferenza di attributi quando attenzione quando utilizzate più attributi diversi perché vedete che io qui ho utilizzato due attributi distinti il colore e la forma solo che solo che in un caso ho utilizzato un principio di prossimità per cui riesco a percepire la differenza nell'altro caso gli elementi sono tutti mischiati ed è una confusione pazzesca quindi cercate di utilizzare gli attributi e i principi di Gestalt assieme in maniera concorde qui c'è qualche altro esempio dove è più facile andare a percepire che c'è una distinzione tra gruppi beh ovviamente in quello centrale in cui ho la forma il colore e la prossimità che giocano tutti assieme nella stessa direzione gli altri ho delle varianti i due in alto hanno la prossimità ma mischiano in un caso la forma nell'altro il colore però bene o male riusciamo a distinguerli in quelli in basso ho sostanzialmente un attributo in meno qui non ho il colore e qui a sinistra non ho la forma a parte quello in centro dov'è che voi percepite la maggiore differenza dov'è che vedete una differenza più netta in basso in basso a sinistra sì ma perché perché in basso a sinistra sto usando come attributo come unico attributo il colore quindi in generale se voi avete se dovete scegliere tra utilizzare il colore come attributo oppure la forma ecco scegliete sempre il colore perché il colore come attributo è molto predominante quello che conta più se vedete anche qua su in alto dove ho mischiato qui pur avendo le forme mischiate lo percepisco molto più nettamente diviso rispetto a questo qua in alto a destra dove invece ho i colori separati che hanno un'interferenza più forte perché forma e prossimità lavorano assieme colore lavora in un'altra direzione e il colore lì va quasi a contrastare la divisione che hanno gli altri due quindi il principio di prossimità e la forma quindi se è possibile utilizzatele assieme nella stessa direzione in generale l'attributo che conta di più è il colore un altro aspetto importante da tenere in considerazione è quello delle convenzioni culturali normalmente noi leggiamo procedendo da sinistra a destra e dall'alto verso il basso ma per essere una convenzione del mondo occidentale nostra in altre culture non funziona allo stesso modo ok non so se qualcuno di voi è appassionato di manga però la prima volta che si prende in mano un manga ecco lo si gira dalla parte sbagliata ok perché i manga si girano al contrario normalmente se noi andiamo a pensare di costruire un grafico per persone che condividono la nostra cultura diciamo occidentale questi sono delle convenzioni che noi andiamo sempre a considerare per cui ad esempio gli elementi più importanti stanno in alto e a sinistra e se vogliamo andare a vedere qualcosa che va avanti l'importanza ad esempio andiamo da sinistra a destra dall'alto verso il basso il tempo cresce sempre da sinistra verso destra o al limite ma un po' più raro dall'alto verso il basso perché è l'ordine che noi seguiamo io posso anche avere il tempo che va da sinistra destra a sinistra però è contro intuitivo quindi le persone che lo vedono ci impiegano un po' a capire cosa sta cosa sta succedendo ok quindi questi sono i mattoncini di base che noi dobbiamo utilizzare ripeto buona parte degli strumenti di software che generano dei grafici già li usano però non sempre nella maniera ideale quindi siamo noi che dobbiamo andare eventualmente a ritoccare gli aspetti base di un grafico in modo da cercare di utilizzare nel modo migliore possibile questi mattoncini a questo punto veniamo a parlare di quelli che sono i principi di integrità visuale preferite fare una pausa breve breve tipo 5 minuti o andare avanti diciamo ancora per 40 minuti 45 esprimetevi pure io ok perfetto allora siete per ok quindi preferite finire un po' prima va bene ok allora un secondo solo che prendo un bicchiere d'acqua e andiamo avanti oltre ai mattoncini ci sono una serie di regole un po' più generali di alto livello che possiamo andare a utilizzare per guidare la nostra costruzione del grafico e anche andare a fare la valutazione la prima parte dell'esame e che poi saranno anche i primi primi esercizi che faremo dalla terza settimana sono legati a non costruzione di grafici qualcosa sì lì ci arriviamo dopo ma andare a utilizzare tutta questa serie di concetti per capire quali sono i punti deboli di grafici esistenti quindi questi principi di integrità visuale sono quelli che ci guidano nell'andare a uno valutare la bontà di un grafico e due successivamente una volta che abbiamo visto un po' di varianti a guidarci nell'andare a costruire i grafici nella maniera corretta i principi di integrità visuale sono sostanzialmente tre sono quelli che vediamo qui i principi di proporzionalità di utilità e di chiarezza la proporzionalità sostanzialmente consiste in andare a rappresentare dei valori con delle grandezze diciamo fisiche geometriche che sono effettivamente proporzionali ai valori che vogliamo andare a misurare andiamo a rappresentare scusate l'utilità indica l'uso di elementi che siano utili a trasferire dell'informazione e la chiarezza indica l'utilizzo di etichette o altri elementi o disposizione del grafico che effettivamente permettono di chiarire quindi facilite una comprensione del grafico quando parliamo di proporzionalità l'idea è di garantire che se io ho un rapporto tra due quantità numeriche percettivamente quel rapporto sia trasferito in maniera fedele sul grafico ovviamente c'è poi ancora l'aspetto di diciamo percettivo dietro nel senso che se vado ad utilizzare delle aree piuttosto che delle linee lunghezze delle barre ecco sto peggiorando la situazione però il primo passaggio è almeno sulla sulla carta garantire che i valori siano effettivamente riportati in maniera corretta questi principi sono stati così elencati da Edward Tufty in uno dei libri che vi ho citato nella scorsa lezione e Tufty ha anche definito una misura che si chiama il life factor il cosiddetto fattore di menzogna il fattore di menzogna è sostanzialmente il rapporto tra la dimensione che c'è che ha un effetto una differenza come mostrata sul grafico e la differenza con l'effetto nel dato e quindi se io ho due numeri che sono uno al doppio dell'altro mi aspetto che vengano rappresentati con due barre una al doppio dell'altro o con due aree che sono una al doppio dell'altro se questo non è vero sto andando a fare un a dire una menzogna quindi se il life factor è 1 quindi il rapporto geometrico e il rapporto tra i dati sono uguali praticamente va bene quindi il rapporto tra la differenza che scusate il rapporto che osservo tra le dimensioni sul grafico e il rapporto che osservo nei dati dovrebbero essere uguali quindi il numeratore e il denominatore dovrebbero essere lo stesso se sono uguali quindi numero al doppio dell'altro vuol dire barra lunga al doppio dell'altro il nostro life factor è 1 ed è la condizione ideale posso avere ovviamente un'esagerazione o una minimizzazione a seconda di come variano questi due questo numeratore e questo denominatore esempio questo preso direttamente dal libro di Tafti questo è un un grafico pubblicato in una pagina del New York Times di non so del 90 95 ed è sostanzialmente parla di quanti miglia per gallone tendenzialmente riesce a fare in media un'automobile vedete qui di fianco ci sono sulla sinistra gli anni quindi partiamo da 78 arriviamo all'85 e queste barre sostanzialmente mi danno il numero di miglia che vengono fatti quindi nel 78 erano 18 miglia per gallone nell'85 sono 27 miglia e mezzo per gallone ecco il punto è che se io vado a prendere quelle due linee rosse che ho evidenziato e le riporto qui sotto sul grafico sono immaginando di stampare questa pagina su una 4 questa slide su una 4 sono 18,7 cm contro 22 contro 2,2 cm quindi il rapporto è 1 a 8,5 se vado a prendere lo stesso tipo di rapporto ma non tra le lunghezze ma bensì tra i numeri cioè 27,5 e 18 il rapporto è 1,52 quindi se io vado a prendere 8,5 e 1,52 e faccio il rapporto ho 5,59 il che vuol dire che sto esagerando enormemente quello che è un rapporto che prima c'era quindi se vado a vedere i numeri è una volta e mezza se vado a vedere sul grafico è 8,5 quindi il nostro fattore di menzogna è enorme sì ci hanno un po' preso in giro ma la cosa è comune adesso ve ne faccio vedere uno un po' più recente debito pubblico debito pubblico allora la tridimensionalità spesso effettivamente trae in inganno quindi è possibile che lì ci fosse una qualche qualche ricerca di un effetto tridimensionale di prospettiva e quello abbia alterato il punto è che io non riesco a percepire la differenza quindi faccio veramente fatica a percepirli a fare i calcoli delle prospettive quindi bisogna cercare di essere il più semplice possibile in modo che chi osserva percepisca in maniera corretta allora qui è l'entità del debito pubblico in termini di percentuale del PIL per gli anni dal 14 al 20 dove ovviamente il 19 e il 20 questo è un grafico ovviamente del 2018 il 19 e il 20 erano delle previsioni non so quanto sbagliate perché ovviamente nel 2020 con la pandemia probabilmente è andato molto più su ecco se io vado a prendere questi due numeri 131 e 135 che sono ovviamente quelli su cui voleva attirare l'attenzione chi ha costruito chi ha confezionato questo grafico e vado a prendere la lunghezza delle barre che cosa ottengo ottengo sostanzialmente che una è 3 centimetri e mezzo l'altra è 9 e rappresentano codificano dei numeri che sono 131 e 135 anche se non avete il dono innato della matematica qualcosa dovrebbe suonarvi strano ok in effetti se faccio il rapporto tra le dimensioni 9 su 3 e mezzo e il rapporto tra i valori 135 su 131 qui è 2 57 qui è 1 0 3 quindi 2 5 può darsi che l'abbiano fatto consapevolmente questo io non lo so il punto è che la percezione che ho guardando il grafico è diversa dalla percezione che avrei guardando puramente i dati quindi fattore di menzogna 2 e mezzo sto esagerando una differenza che esiste nei dati tramite il mio grafico ma il problema qui qual è il problema è che qui è stato commesso un errore molto molto comune che spesso si commette con i diagrammi a barre che è quello di andare a far partire le barre non da zero ma hanno un valore diverso da zero se io invece faccio partire le barre da zero ottengo questo scusate questo e qui effettivamente abbiamo un valore che è una rappresentazione che è corretta noi ovviamente dobbiamo sempre puntare ad avere un life factor pari a uno poi è ovvio che qualche piccola approssimazione nel grafico ci può essere però sono frazioni ora l'osservazione la prima osservazione che vi può venire in mente andando a osservare questo diagramma rispetto a quello precedente vabbè ma qui non si nota la differenza torniamo al discorso della minima differenza osservabile il punto è che se io ho delle differenze così piccole probabilmente ho scelto il grafico sbagliato meglio volendo mantenere un life factor pari a uno ho scelto il grafico sbagliato un'alternativa è questa dove non vado a misurare l'altezza di una barra che non c'è ma vado a vedere la posizione rispetto a un asse che è questo e la codifica di un diagramma a punti è rispetto a un asse e quindi qui sto decisamente traendo i miei osservatori molto meno in inganno la regola fondamentale è mai tagliare le barre se volete utilizzare un diagramma barre dovete per forza andare a mettere una asse che parta da zero altrimenti per costruzione il vostro life factor sarà maggiore di 1 è ovvio che se invece di utilizzare delle barre voi andate a utilizzare un altro tipo di grafico un grafico a punti ecco che non è più necessario avere l'asse a zero perché la codifica non è più la lunghezza e la barra ma è la posizione rispetto all'asse di fianco quindi in generale il nostro obiettivo quando andiamo a definire un grafico o quando andiamo a valutare un grafico esistente è di avere un life factor che è il più prossimo possibile a 1 e possibilmente cercare di limitare anche il life factor legato alla parte percettiva quindi preferire ad esempio un confronto tra lunghezze oppure un confronto tra punti rispetto a un asse comune rispetto ad esempio delle aree secondo principio di integrità l'utilità l'ideale è che ogni elemento presente in un grafico ci porti elementi e informazioni utili tutti gli elementi inutili che non portano informazioni di fatto distraggono dal messaggio fondamentale e quindi complicano rendono più faticosa più lunga la comprensione del grafico anche qui un'altra misura diventata da Tafti è il data increase che è il rapporto tra l'inchiostro che usiamo per rappresentare dei dati e l'inchiostro totale presente sul nostro grafico ora ovviamente questo funziona su una pagina stampata su un grafico sul monitor di un computer ovviamente è un po' più diverso dobbiamo andare a vedere rispetto allo sfondo quanti punti sono utilizzati per il grafico e quanti punti diversi dallo sfondo sono utilizzati per il resto vi faccio un esempio di come possiamo andare a ridurre il data increase scusate a massimizzare il data increase questo è un punto di partenza il bordo attorno al grafico potrebbe non servire a niente ok non ci porta informazioni in realtà anche tutte quelle barre verticali che dividono non ci dicono molto basta avere un po' di la connessione tra le coppie di barre e abbiamo risolto il problema le principiamo comunque come facenti parte dello stesso gruppo la larghezza delle barre effettivamente non codifica nulla quindi potremmo ridurre le barre ancora di più questo è il redesign che propone Tufti va un po' a gusti a qualcuno può piacere la versione minimalista personalmente lo trovo un po' esagerato però vale il principio il principio è massimizzare il data in creation cioè ridurre tutto ciò che è ridondante con il buon senso ovviamente quindi soprattutto mostrare i dati per cui in realtà dobbiamo ricordarci di utilizzare delle differenze dove effettivamente ci sono le differenze quindi evitare di utilizzare tanti colori che non rappresentano nulla semplicemente perché ci piacciono avere tanti colori e usare colori molto forti e saturi per evidenziare un elemento non dappertutto i grafici i grafici che utilizzano tanti elementi inutili che non trasferiscono informazione relativa ai dati sono definiti data afti chart junk ovvero grafici spazzatura l'esempio l'esempio tipico è questo grafico dove l'unico aspetto interessante che trasporta dei dati è la riga la scusate la curva rossa e ovviamente l'asse il resto è ovviamente decorazione qual è l'obiezione alla critica che fa che fa tafti ed è una cosa che ha detto Nigel Holmes che è l'autore di questo grafico lui dice una volta che avete visto questo grafico probabilmente vi resterà in mente per un sacco di tempo quindi il mio obiettivo quello di rendere il grafico memorabile farvi ricordare l'informazione l'ho raggiunto se il grafico non avesse avuto tutta questa decorazione probabilmente l'avreste visto e ve lo sareste dimenticato in fretta il punto è che nel contesto in cui siamo noi i grafici li facciamo per andare a trasmettere dell'informazione che sia la più corretta possibile e che possa essere utilizzata per comprendere bene quelli che sono i dati che vogliamo descrivere e quindi in questo caso in questo contesto non ci interessa la memorabilità ok noi tendenzialmente facciamo faremo lavori da ingegneri e quindi dobbiamo andare a spiegare i dati riportarli in maniera fedele per cui l'iFactor deve essere circa uno cercando di evidenziare di usare i grafici per migliorare la capacità di comprensione dei dati altro esempio di chart junk americani che hanno provato l'erba ovviamente questo richiama vagamente un diagramma torta ma in realtà è un diagramma a foglia ora a parte tutte le decorazioni di contorno guardate un attimo questo grafico c'è qualcosa che non vi torna le proporzioni le aree ok 1744 sì quando io uso una torta o una variante della torta il presupposto fondamentale è che sto andando a descrivere una relazione tipo parti e tutto e qui le parti però sono 49 44 più 17 più 36 per cento non sono parti di un tutto perché la percentuale supera il 100 per cento quindi qui a parte tutte le decorazioni inutili dalla chart junk c'è un altro errore concettuale molto grave che è quello di utilizzare un diagramma a torta o una sua variante per andare a rappresentare dei dati che non rappresentano un parte tutto perché perché sostanzialmente questo 44 per cento è la percentuale di persone tra i 50 e i 64 anni che hanno provato l'erba il 49 per cento di chi è chi ha un'età tra i 30 e i 49 anni ha provato l'erba e il 36 per cento di chi è tra i 18 e i 29 ha provato l'erba ovvero quelle sono proporzioni ma legate ma relative non alla stessa unità ma a insiemi diversi a tutti diversi e quindi non possono essere sommate ok è come se io andassi a sommare la percentuale di di medici che hanno che sono stati vaccinati e la percentuale degli ottantenni che sono stati vaccinati non li posso sommare a rappresentare in una torta perché fanno parte sono percentuali di un insieme di due insiemi completamente diversi quindi oltre al charge anche qui c'è proprio un errore concettuale forte di cosa sto andando a rappresentare tenetelo presente perché ogni tanto in giro si vedono dei diagrammi a torta che di nuovo non partono dall'assunto parti e tutto ma mettono dei numeri un po' così a caso li fanno probabilmente a mano sì o partono magari da un diagramma a torta fatto con qualche software e poi su quello ricalcano il disegno però giustamente attenzione il software non vi dà un errore perché se voi prendete 49% 44% 36% 17% e li mettete in excel e poi fate un grafico a torta lui ve lo fa quindi il software dà un errore ma non necessariamente se vi mettete dei numeri a caso il software fa quello che gli dite voi quindi non fa tanti controlli terzo principio è quello della chiarezza quindi questo principio ci dice che tutti gli elementi di contorno di un grafico dovrebbero lavorare assieme ai dati che noi abbiamo codificato in modo da garantire la chiarezza soprattutto gli elementi di supporto testuale e soprattutto ci dice che ogni differenza ogni variazione che vediamo all'interno del grafico dovrebbe essere legato a un'effettiva variazione o differenza che c'è nei dati quindi gli elementi testuali dovrebbero darci un supporto dovrebbero essere utilizzati in maniera gerarchica quindi il titolo dovrebbe essere più grande messo più in alto dovrebbero essere leggibili quindi abbastanza grandi da potersi leggere tendenzialmente scritte in orizzontale perché se le scrivo in verticale sono molto più difficili da leggere vicini ai dati quindi preferire il direct leveling a una leggenda separata poi la leggenda se è molto lontano è ancora più difficile da leggere se la metto vicino tanto quanto e ovviamente devo sempre andare a mettere le etichette sugli assi perché altrimenti non so quali sono le quantità che sto andando a rappresentare per quanto riguarda i i colori una raccomandazione generale è quella di get it right in black and white ovvero immaginare di stampare il grafico in bianco e nero o con toni di grigio e vedere se comunque anche in questo caso riesco a leggerlo quindi o delle luminosità diverse che quindi sono tradotte in toni di grigio diversi non usare dei colori molto forti perché i colori molto forti distraggono stancano i colori forti e molto saturi di solito conviene utilizzarli se io voglio evidenziare un punto un elemento all'interno del mio grafico non per tutti gli elementi e utilizzare i colori per andare a fornire un elemento di aiuto che quindi mi dà una differenza e mi serve a sottolineare qualcosa devo andare soprattutto a evitare gli elementi che funzionano in maniera separata e devo evitare quella che si chiama un'esperienza di dissonanza cognitiva a questo punto vi chiedo di fare un esperimento io mi metto le cuffie vi chiedo di accendere l'audio vostro e a questo punto io vi farò vedere dei rettangoli colorati e vi chiedo di dire ad alta voce non dovete urlare potete parlare normalmente dire ad alta voce il colore del rettangolo quindi se fosse lo sfondo sarebbe bianco ok pronti arriva il primo non ho sentito niente allora vediamo un po' riesco ok allora adesso arriva il secondo terzo quarto ok alla fine avete capito il trucco allora adesso mi tolgo potete pure mettervi in muto vi tolgo le cuffie allora questa allora è esagerata però è una tipica esperienza di dissonanza cognitiva che cosa è successo torno al modello di partenza del della nostra percezione dei nostri due sistemi c'è un sistema automatico che legge quello che vede e quindi vede la parola giallo in questo caso ma verde in questo caso e ovviamente quello dovendo dire qualcosa la velocità con cui legge quello è maggiore rispetto alla velocità con cui l'altra parte del nostro cervello vede il colore rosso e associa al colore rosso la parola rosso quindi capite che ogni volta che io vedo delle variazioni sono portato a associare un qualche significato e il significato è che è cambiato qualcosa che è quello che mi colpisce per primo se però in realtà ho delle variazioni che sono a caso queste non mi portano nessuna informazione quindi sto sollecitando il mio sistema percettivo con delle stimolazioni che non hanno nulla a che fare con i dati che stanno dentro quindi l'idea è cercare di utilizzare i colori minimi per cui se ho un insieme di barre che rappresentano i dati di un dato insieme non vado a colorarle arcobaleno le faccio tutte dello stesso colore tanto comunque c'è un'etichetta vicino alle barre quindi è inutile che stia mettere tanti colori perché il colore mi porta a una differenza che in realtà non c'è e quindi parte un meccanismo cognitivo che è separato da quello principale che dovrebbe andare a vedere tutto come un insieme e faccio una fatica nell'accidente in termini di chiarezza devo anche ricordarmi che quando vado a disporre gli elementi sul mio grafico quindi faccio il layout devo rispettare due principi che sono i principi di detection e di separation detection ovvero devo garantire che chi osserva il grafico possa andare a distinguere un elemento dall'altro separare un dato dall'altro vederli diversi e di separation ovvero garantire che gli elementi che io voglio andare a confrontare siano vicini l'uno all'altro se sono molto distanti all'interno del mio grafico io faccio fatica a confrontarli due esempi due contraesempi forse il primo è questo vedete che qui abbiamo delle bolle quindi primo problema ho delle aree ho scritto i numeri proprio perché con le aree tanto so già che non va bene il punto è che queste bolle sono così grandi perché se fossero piccole non riuscirei a distinguerle che si sovrappongono un all'altro e quindi faccio molta fatica a capire quali bolle sto guardando sono tutte confuse altro esempio diagramma a barre dove ho ovviamente una marea di problemi dove ho le bare che sono sovrapposte l'una all'altra difficili da percepire difficili da distinguere e quindi un sacco di problemi lo trovate nelle slide ma vi invito prima di vedere le slide successive a provare a vedere questo grafico guardarlo per bene e cercare di analizzarlo in termini di proporzionalità utilità e chiarezza ok la soluzione è sulle slide ma provate a farlo come esercizio vostro per mettere in pratica per appunto questi questi principi di base ok direi che io mi fermo qua è tardi siamo tutti stanchi vi pubblico una una lezione domani vi pubblico una lezione e vi chiederai di guardarla prima della nostra lezione diciamo sincrona di lunedì prossimo con questo chiudiamo per oggi abbiamo visto i principi base che dovrebbero guidare la costruzione di un grafico quindi i mattoncini fondamentali un prossimo argomento sarà come posso andare a prendere questi mattoncini metterli assieme e costruire poi il grafico ok quindi questi sono i fondamenti come andiamo a utilizzare i fondamenti per costruire effettivamente dei grafici e che tipo di grafici costruiamo in base a quelli che sono i nostri obiettivi buona serata a tutti Grazie a tutti.